Non l'avete voi? Non l'hanno niente. E allora perché vi guardate in quel mondo? Fermesto, tutti i logori, ragazzo mio. Vi fai compassione. Ma ve ne volete andare? Ma chi vi ha pregato? Non c'è alcun bisogno, mi preghi. Io ti dico che vi fai compassione. Già, è un vecchio domestico di carro, un uomo idiota, quanto mai. Si prende un po' troppo con silenzio, mi pare? Si, ma la crema. Cosa volete? E' un uomo di casa, un uomo di famiglia. Mio zio di latte. Mio zio di latte? Si, perché sua mamma ha fatto una baglia a mio papà.